Io credo che il caffè per gli italiani sia come un buon giorno, un buon risveglio, vale a dire che ogni volta che ci alziamo al mattino sentiamo la necessità perché di bere subito un buon caffè ci dà la carica per affrontare le varie difficoltà e le varie peripezie. Florence, our hometown, è stato il bambino del renaissance e da quel punto di vista l'art e le caratteristiche hanno sviluppato e la Marazocco è stato uno di questi. You can enjoy pasta makers, pizza makers, wine makers, olive oil makers, letter craftsmans. Questo è parte del nostro territorio, del nostro cittadino, del nostro caratteristico. Allora l'agenda fu fondata da mio padre inizialmente nel 1927, si unì a lui il fratello Bruno Minore. Mentre stavano lavorando già per conto proprio artigianalmente hanno avuto una richiesta di fornitura di una serie di piccole macchine per caffè, di epoca che erano in struttura verticale con calderie verticali. Erano gli inizi diciamo delle macchine per caffè e praticamente non era così semplice, le persone bevevano molto vino, a quella epoca ma poco caffè. mio padre però ebbe un po' diciamo un'ispirazione verso il futuro. overall Being in Florence it was separated from the main industrial areas like Milan they really di sviluppare la sua cultura indipendentemente di alcuni altri compagni. Abbiamo raccogliato la storia a molti clienti. Poi abbiamo migliorato sulle avvantaggi, la dual-boiler system con la saturazione di gruppo, controlla la temperatura even better e usando better materiale, encompassedamente con l'italiano design. È la storia, la esperienza, la origine, la craftsmanship, la making, la barista, la musica del place, tutto ha di essere speciale. Il primo in cui la Marzoca ha influenzato l'influenza del negozio in US era ovviamente con la relazione con Starbucks del mid-'80's through the mid-'90's con la so-called second wave del negozio. Al final del negozio, quello che si chiama la terza, ci sono un'azpire di più, di più, di più, di più. di più, di più, di più, di più, di più. di più, di più, e in terms of quality coffee, beverages, espresso drinks. Part of that is our La Marzocco Home Initiative to give people the opportunity to have commercial quality equipment that they can use at home. People are willing to pay more for a specialty drink than they are a commodity drink. People that are serving those drinks are willing to invest more not only into the equipment or the coffee they're serving but into the know-how, the preparation techniques. In my life there are only two things my mother and my wife. I don't have children so the company is like a big child and all those who are dependent on the Marzocco are like all my children with 500 machines per year and we have more than 16.000 machines. The name Marzocco is spread everywhere in the world and so I'm getting rid of all the different things that I can't even imagine. Even if I ever took a lot of people What has a great deal what's the beginning of the Marzocco? Grazie a tutti.